Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube da Simone Pasqua Martedì, martedì 19 maggio alle ore 21 e 30 sul gruppo Facebook del Centro Coordinamento Ternana Club ci sarà in collegamento Vincenzo D'Amico, noto personaggio e conduttore televisivo ex calciatore delle fere nelle ultime due stagioni di carriera, nelle ultime stagioni della sua carriera ha giocato per due anni a Terni, un calciatore ricordato per la sua eccezionale abilità a livello di tecnica e quindi a livello di piedi, diciamo così ci racconterà il suo lato umano come il Centro Coordinamento sta cercando di fare con gli ex Rosso Verdi e con tutti i componenti della società e dello staff e dei giocatori Rosso Verdi per far conoscere alla città di Terni il loro lato umano e magari far scoprire ai Ternani un po' di anedoti su questi personaggi che sembrano un po' come dei miti quindi mi raccomando tutti sul martedì 19 ore 21 e 30 tutti sul gruppo Facebook del Centro Coordinamento Ternana Club per seguire questa diretta con Vincenzo D'Amico Superospite